La svolta sui diritti sindacali per i militari con questo tema, l'Associazione Sindacale Libera, rappresentanza dei militari, ha illustrato a Nola i suoi progetti. Il primo sindacato militare riconosciuto dall'esercito italiano punta su questioni di particolare interesse per uomini e donne in divisa, su tutto il ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza al personale con figli disabili. In una sala gremita nel museo della guerra di Nola, presenti tra gli altri familiari del caporal maggiore Gaetano Tuccillo, caduto in Afghanistan a luglio del 2011. Toccante la testimonianza di Carmine Lettieri, il caporal maggiore capo degli Alpini, rimasto ferito gravemente durante una missione militare a Kabul nel 2004. Numerosi gli esponenti politici presenti, ma di rilevo quella del generale di corpo d'armata Carmine De Pascale, capogruppo di De Luca, presidente nel Consiglio regionale della Campania. Finalmente, dopo decenni, i militari possono godere pienamente dei loro diritti, come tutti i cittadini. Prima non potevamo fare, organizzarci con un sindacato, godere determinati diritti perché c'era impedito da una sentenza della Corte Costituzionale del 1999. Adesso una nuova sentenza è grazie alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, una nuova sentenza che ha ristabilito pieni diritti di noi dei militari e quindi finalmente si può avere un sindacato militare tale che tuteli i diritti e tutte le attività, la vita del militare in genere come qualsiasi altro cittadino. Da Nola nasce il primo passo di questa libera rappresentanza dei militari in Campania e sarà un terreno dove ci si potrà confrontare per rivendicare ciò che è giusto e che i militari abbiano.